Musica 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 C'è questo qua ha la skin normale Quella dell'inizio del game Questo qua ha la skin normale Poi però ha la cdc Che facciamo No no moretino Musica 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 E' un po' con le reti No 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 Se mi faccio 7 kg Quanta gente sta a me Non c'è un po' più certo Basta che io dò un altro colpo a scala era morto Zio se lo pusciavi era morto Un colpo lo mancavo Era 2 contro 1 Prima io dovevo ammortar compagno C'è due piccola Cosa l'hai atterrato il compagno Era atterrato da 3 ore Ti ho detto pucia l'hai watch C'è lui si curava e te e sparavi a caso proprio Eh raga Un mio amico non è italiano Eh raga Allo Hai Ma va che cari mano Ah no Ma te sei italiano si si perchè ti sento doppio cegma ma c'è la cuffietta rock e questo che è andato io l'ho mutata io l'ho mutata io l'ho mutata zonno spogli si si adesso si E però io sono un pompa, quindi era un pompa, non dimenticami. E vabbè, è un'arma da un pompa. Da me c'è un pompa da un pompa. Ok. Sì, sì, che vanno da un pompa. No, penso che... Scudo grande. Dai, vedi. Vabbè, mi faccio questa cosa e poi vado a prendere il pompa. Vabbè, vabbè, vabbè. Vabbè, 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 dove il pompa? Dove il pompa, dove il pompa? In quale casa? Rosso. Rosso. Uno scudo per già, eh, per Shagman. Shagman. Mi chiamo Shagman. No, ma... L'altro scudo grande. Da me potrebbe essere. Non Mi date un pompa. Tattico. Tattico. Sì, è tattico. Vabbè, io faccio il nuovo pompo. Non lo vedo. Vabbè, lo casino, lo po' vedere. non lo vede mi parte il medici tra il tattico cosa vuoi io ho fatto il mio basso ho sparato io scusate dai mi dici dove il tattico zio ce l'ho io l'ho preso io l'ho preso io l'ho preso io dai non so buono a utilizzare quella da 90 raga tieni madonna vieni dammi quella 90 allora gli scudini per usare gli scudini per usare gli scudini vieni cardino ce ne ha due per il davanti suon e riso a due non lo vedi io 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 non lo vedi il giro 144 ma questa è ricca venite raga per questo soggetti non tre poverso ci vuol情况 lo cop 주 t tanto qualeaa si può tutta nostra saluto contenuto io ho portato cantati con la scena si guarda cosa faccio non ci li ho fatto anche io ci li ho distratto io li volevo tanta mano mi fermo non reti ecco la città ok 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 ocultato sono con voi adottato il periodo almeno un po' scuola grande io sono cieco ok ho 500 mila 6 amoretti 500 di metallo io dico ma vabbè i miei moretti bella città tutta la città tutta la città tutta a colpi del cieco no 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 dai c'è da me 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 d'aiuto qua da me era una roba con la voglia cattola kill ma ho già fatto andavo così sì però aspettate ragazzi ci avete qualche altro se ci sono erro per te c'è due scudini 11 guano che sta valuta alla casa ora che l'unica sta casa qui piccolo raga la sede la sede curiamo la 6 no non luttare quella è flash questo si mette un secondo per chiudersi io vado moretti e cardinal quanti medici avete 144 da compitati leggeri la colpi bomba ne è pochissimo ora cardinal io c'ho la 45 dai leggeri cerca adesso avete dato dai leggeri ma ce l'hai leggeri non è stato infelizzo sono solo un po' di rinforzamento non prendete mai il materiale non ci sono la cosa più importante io c'ho 600 i legni mi oh oh vaga sento spari 210 famaci un fortino no ecco la ecco la ecco la si viste dai dai sono qua da me vinto uno qua da morocco bravi tutti qui quelle kill vaga un medici quanti medici avete? vaga ma una raffica un'altra raffica verde magari cavolo lasciatemi il medici che vuole prendete il medici raga dammi qua prendete il medici c'è un medici qua raga ok ok vi metto il pallone che c'è? vi metto il pallone che ne so è domenica è entrato raga potete prendere sto sceglione grande qua la digol è giù è giù è giù lascia la pistolina ti prendo i occhi? per favore io 627 vay acqua qua fatto fa l'anno l'accento il problema che abbiamo di tutti di più però gli anni ci si vede in faccia fortino qua sopra montagna che c'è il senso inizio sarà molto porto rodo non distruggi aspettate aspettate questa casa non è un po' un po' blu un po' avete fatto voi la scala poi dove faranno tutti sta riempi la casa e trafola quanti ho l'avimento di fatto 5 ho messo levate 2 amoretti guardate cosa ho fatto quanti materiali ci avete? 900 di legna 900 di legna 700 di mattoni e 442 di legame guardate cosa ho fatto nella cellula guardate cosa ho fatto 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 non d'anno porto con un po più vecchio non avevo tutto tutto fatto l'altro quanti ce ne sono già ok dove invece che non è tutto e no ma c'è un altro valiglione passate che le punte no io prendi 3 a me di tutto il barile e c'erano anche altri medici vabbè allora va bene anche lucide non possiamo fare il fortino colpino potevi consapevole ma enti però infatti hanno dato un colpo in bocca no 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 dove vai dovai sarà qui sopra no no non possiamo ma perché qui sotto ci viene uno da sopra montagna siamo morti no un problema che ci senta di più scala quindi è facile che ci pusci non sono a posto eh gente a 15 un fortino non so se il soggetto è ci bombardano ti bombardano ti bombardano scendi dietro di te zio qua sotto qua sotto ha messo la trappola lui no eliminato ok non c'è c'è lo scar, vieni c'è lo scar anch'io ce l'ho lo scar mi metto il fano io ok mi metto il fano aspetta cazzo non so la trappola per il marmo non lo scar, non lo scarica ma non so la trucia non lo scarica non mi prende ma non lo scarica sono due contro tre, sono due contro tre porco bombardano dov'è il bombone? ah non so rispondo stanno sotto di noi ah? sotto di noi, benissimo stanno con te vieni qua, vieni qua, vieni qua vieni qua qua eccoli, eccoli, eccoli eccoli, eccoli so qui, so qui, so qui ah, vissi, vissi a terra uno bravo, bravo cavolo, mi fallo cadere giù mi faccio andare bene a terra due cavolo sono morti dai aiuto, 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 bravo, bravo che? no, 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 no giù per razzo è facile bravo cinque kill, gg che anima, mio dio bella, dieci kill io per noi no no, ora, dai, era un glitch per noi avete vinto si adesso giocare sono 87 vittori vai entro ancora mi stanno a guardare e entro via e e e e a e e e e e e